Sfida al vertice del campionato di prima categoria, girone C. Il Borzoli, divisa giallo-blu, saldo in testa alla classifica, vuole riscattarsi dalla sconfitta della scorsa giornata, contro un ponte decimo, in ottima forma e secondo in classifica. Equilibrio tra le squadre senza però grandi occasioni, fino al ventunesimo, in cui si rende pericoloso il Borzoli. Sfuma una buona possibilità per Marafioti, ci prova ancora Papillo, ma anche il suo tentativo non va a buon fine. Due minuti dopo ancora Borzoli, cross dalla sinistra di Ligios per Lombardo, il cui tiro sfiora al palo. Ci prova a pochi secondi dal duplice fischio al ponte decimo, dalla bandierina a Grezzi mette in mezzo per Lipardi, che di testa non trova lo specchio della porta. Con le immagini e il montaggio di Simone Maggi si apre il secondo tempo, che vede al quinto tempo Rivera impegnato su una buona occasione della squadra di casa, che inizia la ripresa con il piglio giusto. Da segnalare al cinquantanovesimo l'espulsione per doppia munizione di Russo, Borzoli in dieci. Nonostante la superiorità numerica, non trova grandi spazi di ponte decimo, fino alla mezz'ora, quando un'azione in contropiede terminata da Grezzi non va a buon fine. Non smette di attaccare il Borzoli, a sette minuti dal termine, azione corale del giallo-blu. Dalla fascia Verardo, in area c'è Ligios che l'appoggia a Minelli, riesce a chiudere Rivera. Termina sullo 0-0 una partita poco emozionante. Una partita sostanzialmente equilibrata, il primo pareggio interno per il Borzoli e il rammarico del ponte decimo per non aver sfruttato la superiorità numerica.